ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie si fa 18 siamo nel carciomercato invernale di conseguenza siamo a gennaio ci eravamo lasciati qua in azienza di iniziare la prossima partita giochiamo contro il Brighton stavolta però in trasferta di questa volta perché se non ero nei video precedenti ci abbiamo giocato e quindi dopo solamente qualche giornata ritorniamo a giocare contro il Brighton però ci avevamo giocato appunto in casa e niente sia perché è in trasferta sia per un punto di vista di classifica preferisco giocare questa partita qua quindi la gioco vediamo la male di loro no anche se è brutta anzi metto la vista nera così perlomeno quella ho calcata da brutti non mi garbava metto la vista nera così cioè di stacco no? di colori fra noi e l'oreo e niente metto Sillarp o Strimolida che come vedete sono state 8700 partite nel giro di Pou e di conseguenza anzi come vedete vedete la condizione dei giocatori e questa qua perché appunto sono state tutte queste partite qua nel giro di Pou e niente iniziamo banda alle ciance dai iniziamo Danny Brereton boom al venticinquesimo Ciccio Brereton ci porta in vantaggio con una gran botta di sinistra male buono vai non avevamo iniziato bene a dire la verità anche se voi avete visto solamente questa azione lì questo tiro qua anzi questo qua posso garantir che per ora partire sia svolta nella nostra difensiva attenzione eh infatti uno a uno dopo poco riequilibrano il tutto loro è Brereton boom ancora Brereton 2 a 1 ci riporta in vantaggio comunque ragazzi non è assolutamente una partita semplice credo che per quanto riguarda questa stagione sia una partita più difficile che io abbia giocato è vero l'ho giocato i po' eh perché per ora sono più quelle simulate che altri però non è assolutamente una partita semplice c'hanno giocatori che in realtà dovrebbero stare come minimo in Premier League bella roba tirasi là no e andiamo via sospiro di sollievo buono perché vabbè chiaramente abbiamo vinto poi abbiamo vinto la prima partita del mese e soprattutto perché abbiamo vinto appunto contro una squadra che come ho detto prima non è assolutamente male questi ragazzi c'hanno certi nomi c'hanno già stesse gnonne che è il nostro ex che fra l'altro già lo dissi cioè mi venne il dubbio già quando si giocò contro loro all'andata perché la simulai quindi se no se non sbaglio già a tempo quando si vendete aveva 76 che non è assolutamente male anche per questa categoria qua poi c'hanno colui che ci ha fatto fare anche gol Musonda Charlie ve lo lì che è regola non so se è del Cersi se è in presto comunque è stato anche nel Cersi per di poi c'hanno Heinz, Ince come cavolo si chiama che lui è regola sia lui gioca in Premier League per di c'hanno certi giocatori ragazzi non so assolutamente male meno male si è vinto vai seconda partita non so se l'avevate notato già prima quando finiva il discorso sulla partita precedente ma solamente dopo due giorni torniamo a giocare giochiamo contro il Preston in casa nei video precedenti se non sbaglio abbiamo fatto l'opposto avevamo giocato fuori casa col Preston e poi in casa col Brighton stavolta facciamo l'opposto però a livello di come mi comporto quando giochiamo in casa quello non cambia mai simulo la partita vengono fra l'arte da due vittorie o un pareggio io non mi abito se bisogna guardare da su a giù o da giù a su comunque basta parliamo della partita dopo dieci minuti meno male Adam se la sblocca 1 a 0 per noi Edwards al 38esimo raddoppia Edwards ancora 3 a 0 e poi addirittura Hitter all'88esimo tanto per da quel brio in più alla vittoria buono va un 4 a 0 netto fra l'arte dobbiamo Edwards e Edwards tutte le volte vabbè tanto mi apite no secondo dio lui non so se vi ricordavate perché ho visto chiaramente i video precedenti che sul finale arrivò un'offerta per Zing non voglio il nome perché non so nemmeno se riesco a leggerlo German Pritt no German Pritt pensavo peggio insomma è stata un'offerta l'ho accettata niente di che però l'ho venduta alla fine quindi niente vado a far vedere più correttezza siamo arrivati comunque alla partita successiva giochiamo FK coppa contro il Barnett fuori casa la simolo tanto lo sapete e niente speriamo bene perché come dico sempre anche se la coppa non rientra nei miei obiettivi primari però se riuscissimo pur non giocando davvero simulandole andare avanti mi fa cioè un po' farmi altro che piacere insomma Gomez al 44esimo la sblocca Villete se si pronuncia così al 58esimo per loro pareggia Edwards ci riporta in vantaggio il 74esimo e la partita finisce così buono a regola abbiamo posto il turno perché come dire sempre non ci dovrebbe essere un discorso di andata e ritorno torniamo a giocare il campionato quarta partita del video giochiamo contro il Brentford in trasferta anche se in realtà a regola se non sbaglio tutte le partite rimanenti saranno in trasferta e niente la gioco perché come avete visto il Brentford è lì se non sbaglio ho visto ora però terzo e quarto terzo non volevo rivedere solamente per essere più corretto con quello che dicevo si dai ci dovrebbe vedere comunque la differenza fra le maglie vai iniziamo vai Brereton come sempre vincite duelli di prepotenza no duelli di prepotenza intendo quando magari qualcuno arriva a dare una spallata eh vai Gomez madonna santa abbiamo già avuto due occasioni che se sfruttati potevano essere go e già due volte ci si mangia di una sequenza quindi go Dio Bonode stavolta forse la forte si era presa però per te l'ha fatto il suo attenzione Dio Bonode oh non ne vuole entrare una non ci credo ora ci si mettono anche le traverse poi Edwards no non ci voglio credere dai ma per davvero finisce così 0 a 0 però è risultato strabucciardo perché loro forse una volta sono venuti su a livello di pericolosità cioè guardatevi le statistie dai va stra stretto a me questo coreggio questo 0 a 0 cioè piuttosto davvero preferivo l'1 a 1 perché almeno un go sarà fatto invece niente fra noi che siamo dei cani portieri e famigliauli e a volte il gioco che vuole che non facciamo go niente è finita così e mi ha fatto un po' girare le scatole sinceramente altra cessione Sang Ho Kim vabbè detto da me Kim basta venduto al Coventry City per 650 mila anche se come sempre diciamo soldi budget no che arriva per quanto guarda il mercato come vedete è 425 mila vabbè meno di nulla tanto anche lui praticamente non giocava comunque siamo arrivati a quella che dovrebbe essere la penultima partita del video del mese giochiamo sempre in trasferta ma tanto si sapeva perché anche quella dopo giocheremo sempre in trasferta contro l'Hadsfield Hadsfield che a regola dovrebbe essere messo malino almeno fino a qualche tempo fa era messo malino infatti è quarto ultimo a pari punti con penultima e terz'ultima e niente la simulo speriamo che almeno questa possa avere un risultato finale diverso magari una bella vittoria per noi no? da vedere la trasferta si perde speriamo di no ecco Munier dopo 6 minuti la sblocca per l'Hadsfield boia Cacciunga e Maulida al settantesimo hanno fatto 2-0 comunque ho sempre Hudsfield e mi sa infatti niente come purtroppo speravo non succedesse e si è persa diciamo che ultimamente a parte 4-0 di prima le partite simulate non è che mi portano grandi risultati è che allo stesso tempo non è che posso giocare tutte le partite davvero qualcosa da manche simulare lo 3 sarebbe troppo noioso sia per voi che per me ultima partita del mese giochiamo entra sempre in trasferta beh come ho detto anche prima contro Norwich vediamo se invece stavolta il risultato può essere diverso speriamo che non farebbe male una vittoria Van Bergen al 48esimo la sblocca Zardy e Spareggia per il Norwich al 59esimo 1-1 niente non riusciamo neanche a vincere questa partita qua vabbè un se è perso almeno però un se ne è vinto abbiamo lasciato due punti e così finisce il carciomercato con l'invernale diciamo che acquisti praticamente non ci sono stati voglio farvi vedere però una cosina no volevo farvi vedere che abbiamo preso gratuitamente per il prossimo anno solamente questi quattro giocatori non so se li conoscete e niente quindi il prossimo anno non lo faranno fatta la nostra squadra salvo imprevisto a regola non ce ne dovrebbero essere e niente non so non so se siete contenti se vi piacciono queste cose qua io direi che è stato un carciomercato che per quanto riguarda adesso alla gente che è venuta niente è stato brutto ma per gente che verrà direi che abbiamo fatto leggermente degli affaroni ma leggermente e potrebbe anche non finire qua chissà se da qui alla fine magari non lo so magari riuscirò ad avere altri soldi e prima della fine della stagione proverò a fare altre offerte per altri giocatori su questa stagione non prometto niente però chi lo sa adesso abbiamo solamente trovato un altro difensore centrale con l'83 che è Romagnoli un portiere che ha solamente 187 un esterno alto basso deve fare a voi principalmente des ma volendo anche sinistro che ha 87 e solamente non so solo un scelte Cavani che ha 83 da mettere in attacco così tanto per diciamo che possiamo e abbiamo chiuso possiamo dire quindi che abbiamo chiuso chiuso il carciomercato invernale col botto io direi di sì perché anche se come ho detto prima a livello effettivo non è arrivato nessuno per quanto riguarda il proseguo di questa stagione direi che per il prossimo anno indipendentemente dal fatto che rimarremo qua in championship o cosa sembrerebbe più probabile e spero ovviamente in Premier League direi che abbiamo già messo lo zampino su determinati giocatori eh io poi non sembrò perché se no sembro scemo e non lo faccio però in realtà sono straontento perché veramente abbiamo preso i giocatori non spendendo niente praticamente veramente veramente forti sì che anche se in futuro volessimo così magari anche rivende possono veramente portarci decisamente dei soldoni ecco quindi sono straontento insomma sono arrivato al 2 febbraio che è giornata in cui giocheremo la nostra prossima partita FK partita abbastanza romantica perché per chi non lo sapesse per chi non mi seguisse deve sapere che l'anno scorso come già detto in un video precedente non ricordo quale diciamo allenavo no tra virgolette ho scelto come squadra Newcastle quindi una partita abbastanza romantica diciamo sentimentale più che altra anche se è solamente di coppa fra l'altro giochiamo con quanto ci riguarda in trasferta quindi torno diciamo proprio là no diciamo nello stadio proprio del Newcastle e quindi niente partiamo già col botto dal punto di vista sentimentale per il resto fatemi vedere quante partite ci sono no totale 5 partite per ora quindi vabbè partite giuste senza a livello di numerazione siamo messi bene perché comunque 5 partite si dovrebbero fare in maniera veloce poi bisogna vedere anche cosa giocheremo e cosa simuliamo e niente tutto qua comunque io direi che questo video è andato abbastanza bene soprattutto dal punto di vista del mercato perché come ho già detto quando poi inizieremo la prossima stagione ci arrivano no le bombe di più di giocatori 4 guardie del campionato così e così però siamo sempre primi ora non possiamo vederlo perché c'è questo casipio qua però siamo sempre primi e forse addirittura abbiamo anche allungato il distacco fra noi e la seconda quindi tutto sommato bene davvero insomma detto questo basta vi aspetto nel prossimo video però come sempre prima di lasciarvi vi ricordo le solite tre cose se volete fare le solite tre cose ovvero lasciate un bel bello al video chiaramente se il video vi è piaciuto condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale che è la cosa più importante per rimanere aggiornati via detto questo come ho detto prima vi aspetto ciao 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 Grazie a tutti.